Il tubo per irrigazione FeedForce è un prodotto innovativo, estremamente leggero, resistente e adatto ad un utilizzo intensivo. FeedForce è sinonimo di grande innovazione e presenta caratteristiche uniche. Privo di PVC è resistente alle abrasioni, forature e rimane flessibile anche a basse temperature grazie all'innovativo materiale utilizzato. Grazie alla maglia NTS, unica ed originale, FeedForce impedisce la formazione di nodi e di torsioni, garantendo un flusso d'acqua costante. Nella confezione sono inclusi la pistola e i raccordi acqua stop anti-gocciolamento. Con i suoi 25 metri di lunghezza è perfetto sia per giardini di piccole dimensioni, sia per orti e ampi spazi verdi. Il suo essere due volte più leggero e tre volte più compatto rispetto ai tradizionali tubi in PVC ti consente di ripiegarlo in poco tempo e di spostarlo agevolmente nei tuoi spazi. FeedForce è il miglior tubo per le tue attività di giardinaggio, garantito per trent'anni.